Buonasera a tutti. Il nostro Paese sta attraversando una fase acuta, la fase acuta dell'emergenza. Oggi abbiamo superato 13.155 decessi. Questa è una ferita che ci addolora particolarmente, una ferita che mai potremo sanare. Ecco allora, non siamo nella condizione, lo voglio chiarire, di poter allentare le misure restrittive che abbiamo disposto, non siamo nella condizione di poter alleviare i disagi e di risparmiarvi i sacrifici a cui siete sottoposti. Detto questo, siamo in stretto contatto sempre con il Comitato Tecnico Scientifico, i quali ci rappresentano che si iniziano a vedere gli effetti positivi delle misure restrittive in cui adottate. Ma, ripeto, non siamo ancora nella condizione di poter iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa. È la ragione per cui ho appena firmato il nuovo DPCM, che proroga, lo avevamo già anticipato tramite il Ministro Speranza, che proroga l'attuale regime delle misure, così come sono state disposte, sino al 13 aprile. Noi ci rendiamo conto che vi chiediamo un ulteriore sforzo, un ulteriore sacrificio, ma questo lo dobbiamo afferrare tutti. Se noi smettessimo di rispettare le regole, se iniziassimo ad allentare queste misure, tutti gli sforzi in cui fatti sarebbero vani. Quindi addirittura pagheremo un prezzo altissimo, perché oltre al costo psicologico, al costo economico, sociale che sin qui stiamo affrontando, saremo ricostretti a ripartire di nuovo. Un doppio costo, non ce lo possiamo permettere. È per questo che invito tutti, vi ringrazio, ma invito tutti anche a continuare a rispettare le misure. E attenzione, c'è una sparuta minoranza, per fortuna una sparuta minoranza di persone, ci sono alcuni che non rispettano le regole. Vorrei ricordare che abbiamo disposto delle sanzioni molto severe, delle multe anche onerose dal punto di vista economico. L'abbiamo fatto perché non ci possiamo permettere che l'irresponsabilità di alcuni possa comportare un danno nei confronti di tutti. E dobbiamo anche il rispetto nei confronti delle persone che addirittura rischiano la propria salute, come il personale medico che è più direttamente esposto, gli operatori sanitari che sono più direttamente esposti ai focolai di contagio. Lo dobbiamo a tutti, anche i lavoratori, che semplicemente quotidianamente ovviamente vanno al lavoro, ma andando avanti il Paese. Mi dispiace che queste nuove misure capitano in un momento particolare, anche in un momento una solenne festività, a noi tutti italiani cara, la Pasqua. È un momento di serenità, condivisione, anche di amore, di pace tra di noi, ma saremo purtroppo, lo dico particolarmente dispiaciuto, personalmente dispiaciuto, saremo purtroppo ad affrontare anche questi giorni di festività con questo regime restrittivo. Questo ci consentirà, questo sforzo ulteriore che vi chiedo, ci consentirà di iniziare a valutare, sempre con le raccomandazioni del Comitato Tecnico Scientifico dei nostri esperti, una prospettiva. Nel momento in cui i dati dovessero consolidarsi, nel momento in cui il Consiglio degli esperti ce lo permetterà, inizieremo già a programmare un allentamento delle misure. Non vi posso dire però il 14 aprile. Non siamo nella condizione. Quel che è certo è che noi continuamente lavoriamo e ci confrontiamo con loro. Nel momento in cui avremo, valutando quello che succederà e quindi la curva epidemiologica nei prossimi giorni, queste due settimane, noi inizieremo ovviamente a valutare e ad abbracciare la prospettiva di entrare nella fase 2. La fase 2 è quella di convivenza col virus, di adottare delle misure che pian piano portano all'allentamento per poi entrare nella fase 3, che è quella dell'uscita dall'emergenza. La fase 3 è l'uscita dall'emergenza, il ripristino dell'assoluta normalità delle nostre attività lavorative, delle attività sociali. La fase 3 è la fase della ricostruzione, del rilancio della nostra vita sociale ed economica. Grazie per questa attenzione. Ci sono dei giornalisti in collegamento. Dare la parola a Marco Conti e al messaggero. Buonasera. Io le volevo chiedere perché lei che sta continuando in questa sua attività di pressing a livello internazionale per il dopo, per quello che dovrà fare l'Europa, sperando che qualcosa faccia l'Europa e gli Stati europei. In verità, si è capito, per noi sono i coronabond, gli eurobond, i recovery bond, chiamiamoli come vogliamo, ma voglio chiedere se lei esclude la possibilità che un fondo salvastati con condizionalità light possa essere ancora nella cassetta degli attrezzi per affrontare il dopo virus e quindi la fase di crisi economica. Guardi, io sono stato molto chiaro con, visto che anche molti giornali avete riportato anche alcuni dettagli, sono stato molto chiaro con i miei leader, con gli omologhi europei. Visto che il dibattito e la discussione si concentrava e ci si affannava a ragionare del MES, ho detto che il MES lo riconsidero e sono fermamente convinto che sia uno strumento assolutamente inadeguato per far fronte a questa emergenza. È uno strumento nato in un altro contesto, con altre logiche, con vecchie regole, nato per accompagnare singoli Stati che sono intenzioni finanziarie verso percorsi anche virtuosi, verso l'uscita da queste situazioni di tensione finanziaria. È uno strumento nato per shock asimmetrici. Noi stiamo attraversando uno shock, uno tsunami di portata epocale che ci sfida sul piano dei sistemi economici e sociali. Non hanno nulla a che vedere con shock asimmetrici. Ho detto ai colleghi che non mi riproponete questo MES con queste regole perché non ho assolutamente nessuna considerazione agli occhi del mio Paese, della mia patria. Detto questo, se il MES può essere in prospettiva senza le regole attuali, verrà elaborato in forma diversa, verrà snaturato, verrà posto nell'ambito di un ampio pacchetto di ventagli dove quindi i soldi che abbiamo lì messo vengano resi accessibili a tutti i Paesi senza condizionalità preventive o successive, può essere uno strumento, tra gli altri che dobbiamo elaborare, che ci offriranno la possibilità di mettere in piedi una strategia europea che è quella di cui abbiamo bisogno, articolata sulla base di tanti altri strumenti, che ci consenta di poter dire che l'Europa c'è, l'Europa sta rispondendo con voce vigorosa, unitaria, l'Europa sta dimostrando di essere un insieme coordinato e integrato di Stati che riescono a far fronte comune verso un nemico comune. La domanda a Senio Bonini, Rai News 24. Buonasera Presidente, io le vorrei chiedere una riflessione su un fattore di cui alcuni parlano, il primato della politica di fronte alla richiesta della scienza di dover continuare con la chiusura, con le misure restrittive, questo rapporto duale che però rischia di andare in conflitto, e poi se vuole dirci qualcosa riguardo alle indiscrezioni che vogliono una limitazione di queste nuove misure, di questo nuovo DPCM attorno alle attività degli sportivi in ordine e grado, e poi attorno a questo cortocircuito forse interpretativo che si era creato sulla cosiddetta ora d'aria per i bambini, che ha visto un intervento del Viminale per chiarire meglio il significato stesso di questa normativa. Guardi, la sua domanda si è interrotta quando a un certo punto, non so, ha parlato di atleti, si è interrotta la comunicazione. Siamo delle iniziative, esatto. Perfetto. Allora, ha fatto varie domande, quindi mi chiede degli atleti, poi mi ha chiesto del... la prima mi aiuta? Il rapporto duale tra responsabilità politica e indirizzo del Comitato... Chiarissimo. ...e l'ora d'aria dei bambini. Poi, bambini. Allora, iniziamo dalla prima. Che rapporto c'è tra decisione politica e valutazione scientifica? Io credo che una decisione politica debba avere una base di evidenza scientifica, una base, ma i decisori politici devono assumersi le loro responsabilità. Noi non ho mai detto che noi seguiamo alla lettera le decisioni, le valutazioni del Comitato Tecnico Scientifico. Ho sempre detto che noi, a base delle nostre valutazioni, ovviamente poniamo quelle che sono le raccomandazioni, valutiamo quelle che sono le indicazioni degli esperti e degli scienziati. Noi, la politica, per intenderci, sta affrontando un nemico invisibile, un nemico sconosciuto, che la politica di per sé non è abilitata e non è abituata ad affrontare. E la ragione... ma addirittura gli stessi scienziati, come sapete, si stanno misurando con un nemico assolutamente nuovo e loro stessi hanno una qualche difficoltà ad aggiornare continuamente le loro informazioni e le loro valutazioni. Detto questo, c'è una base scientifica, ci sono delle raccomandazioni, poi interviene la politica. E perché la prospettiva è diversa? Perché il decisore politico, ovviamente, quando assume una decisione, lo deve fare in scienza e coscienza, mettendo insieme e contemperando tutti gli interessi in gioco. Quindi c'è la possibilità che uno scienziato tenga da conto l'aspetto epidemiologico in via esclusiva. Io devo tener conto anche di tutti gli altri interessi in gioco. Soprattutto, ecco, quello che deve guidare l'indirizzo e il criterio che deve guidare il politico sono i valori costituzionali, i principi costituzionali. E anche però nella Costituzione, attenzione, si tratta di contemperare i vari interessi in gioco. Perché nella Costituzione ci sono i diritti fondamentali della persona, alcuni dei quali vengono in conflitto tra loro, ci sono anche la libertà di iniziativa economica, ci sono tutti i diritti sociali. Quindi il decisore deve avere una visione d'assieme, deve cercare di leggere, interpretare alla luce dei dati scientifici le sensibilità, le esigenze della propria comunità e poi ovviamente decide. Io sono stato ben chiaro. Nelle nostre decisioni politiche abbiamo fatto una scelta. Partiamo dal presupposto che la nostra Costituzione si contempla degli interessi in gioco, richiama tanti valori in gioco, ma attribuisce valore prioritario alla tutela della salute. Quindi dobbiamo perseguire prioritariamente la tutela della salute. E poi ovviamente cerchiamo anche di contemperare le esigenze dell'economia, le tante altre esigenze che vengono in gioco. Quando alla seconda domanda, l'unica in realtà novità che abbiamo introdotto, una minima novità che abbiamo introdotto in questo decreto che ripropone il medesimo regime di disciplina attualmente vigente sino al 13 aprile, riguarda le sedute di allenamento degli atleti. Quindi sospendiamo anche le sedute di allenamento onde evitare che delle società sportive possano pretendere, come dire, l'esecuzione tra virgolette della prestazione sportiva anche semplicemente nella forma di un allenamento. Quindi non sono più consentiti ovviamente sedute di allenamento tanto più collettive negli impianti delle società. Ovviamente gli atleti non significa che non dovranno più allenarsi, lo faranno in forma individuale. Per quanto riguarda invece la terza domanda riguardante i bambini, qui vorrei dire che noi non abbiamo affatto autorizzato, c'è stata questa circolare interpretativa del Viminale del 31 marzo, non abbiamo affatto autorizzato l'ora del passeggio con i bambini. Questo lo vorrei chiarire. In fase di interpretazione abbiamo semplicemente detto che se ci sono dei bambini e figli minori, quando un genitore va a fare la spesa, siccome i bambini sono gli unici che non possono uscire, si può consentire anche l'accompagno di un bambino. Ma questo non deve essere l'occasione per il genitore di andare a spasso e di avere un allentamento delle misure restrittive. Come l'ho già detto, noi dobbiamo assolutamente preservare questo regime. Proprio adesso, che si iniziano a vedere i primi effetti positivi, non dobbiamo abbassare la soglia di attenzione, la soglia di guardia. Pierpaolo Larosa, Agenzia Nova. Buonasera Presidente, ritieni possibile consentire alle persone guarite al coronavirus o asintomatiche di tornare alle proprie attività lavorative? E se sì, in quali tempi, in che tempi? Grazie. Ma guardi, per quanto riguarda la risposta alla sua domanda, rimane il regime di indicazioni e di vincoli che abbiamo già predisposto. Non cambia nulla. Poi, ovviamente, è in atto con la comunità scientifica, quindi con il nostro Comitato Tecnico Scientifico, la possibilità di valutare, ecco, quelli che hanno superato la malattia, di come recuperarli appieno, alla piena attività lavorativa, se del caso, a quelle che sono ovviamente le condizioni di vita sociali attuali. Ma per il momento non cambia nulla neppure per loro. Attendiamo nuove indicazioni da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Era anche in programma Alberto Ciapparoni di RTL, ma non lo vedo. È confermato che non c'è. E allora vi ringrazio, anche ringrazio i giornalisti che ci ascoltano e tutti i telespettatori. Grazie. Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.